questo è un video per far vedere appunto che le persone creano un assembramento involontario dopo aver aspettato un'ora e mezza il treno in bovisa è stato cancellato il treno del 17 25 come potete vedere inoltre è stato già cancellato quello prima delle ore 17 17 e 15 vi faccio notare quanta gente c'è già che sta aspettando tre treni soppressi come vedete la gente sta aspettando non c'è nessuno che dà informazioni delle tre nord al ghiabbiotto delle tre nord ovviamente non c'è nessuno non c'è nessuno che mi piace Grazie a tutti